Dopo la bella vittoria contro l'Inter, quanto è difficile confermarsi oggi in un campo come quello dell'Atalanta? Sicuramente una partita difficile perché l'Atalanta ha fatto una grande partita pure col Genoa, però noi vogliamo dare seguito al risultato, alla prestazione e speriamo di far bene oggi. Meno di un mese fa questo era il tuo stadio, emozionato nel tornare a Bergamo? Sì, sicuramente fa una sensazione particolare, però oggi mi devo al Palermo e farò di tutto per poter portare a casa i tre punti.